Diego Casari, è arrivata una sconfitta per Correggio, una sconfitta netta per Nova 2. Sì, è stata una partita che ci siamo complicati da solo all'inizio, non siamo entrati con il giusto approccio e il secondo tempo abbiamo provato a recuperare, ma ormai con un risultato del genere è difficile anche provare a fare qualcosa. Cosa non ha funzionato secondo te? Ma è stato l'approccio iniziale sbagliato, comunque sapevano giocarne la loro pista, è una pista difficile e fuori siamo entrati troppo leggeri, c'è il migliore soprattutto sull'approccio iniziale e nient'altro. Si è concluso qua di fatto il vostro percorso in Coppa Italia, sabato ci sarà lo scontro diretto fondamentale tra Scandiano e Modena, ti chiedo da fuori chi vedi favorito? Sinceramente il Modena, però comunque è una squadra secondo me superiore, però anche lo Scandiano ha dimostrato di poter vincere con tutti, quindi è tutto aperto. Ora il vostro pensiero naturalmente è per il campionato, che campionato vuole disputare con il Reggio? Il migliore possibile, sicuramente migliorare il risultato dell'anno scorso e puntare anche alle prime posizioni perché penso che ne abbia le possibilità.